Ciao a tutti, sono Marco Vigelini. In questo video proverò a rispondere alla domanda che mi è stata fatta su come la scuola può dotarsi in autonomia di Minecraft Education Edition. Per poterlo fare, la scuola deve sottoscrivere il pacchetto Office 365 Education, che è completamente, sottolineo, completamente gratuito per la scuola. Fatto questo, può comprare le licenze Minecraft Education Edition per gli alunni coinvolti nei propri laboratori. Allora, cosa dobbiamo fare? Vi lascerò questo link poi nei dettagli del video. Seguiamo questa guida passo passo su come sottoscrivere e attivare il pacchetto Office 365. Office 365 è completamente gratuito per gli istituti scolastici. Dobbiamo andare in questo link, che io ho già aperto, e cliccare inizia gratis. Cosa significa avere Office 365 per l'intera scuola? Significa avere completamente gratuite queste applicazioni di Office online, più tutti questi servizi. Skype for Business, SharePoint, Microsoft Teams, Sway, che è un prodotto molto interessante, è Forms, OneDrive e OneNote, che è tra le applicazioni online. Vediamo la guida. Inizia gratis. Quindi dobbiamo cliccare su questo pulsante, inizia gratis. Si carica la pagina seguente, ci dice inserire i dati richiesti, ok? Io qua dovrei mettere nome e cognome, prima di seguire la guida. Si consiglia di inserire l'indirizzo email e il numero di telefono di colui o colei che si occuperà di amministrare la piattaforma. Create un profilo di amministratore della piattaforma, dimostrate poi di non essere un robot, immagino che vi venga chiesto, in questo caso, un SMS. Inserite il codice ricevuto sul vostro telefono e andate avanti. Configurazione automatica di Office 365. Io dovrei aver aperto la mia schermata, ho rimosso tutte le applicazioni, ho un unico pulsante di amministrazione. Dimostrare di essere un istituto di istruzione accreditato. Minecraft Education Edition costa soltanto 5 euro ad alunno annualmente. Il costo così basso è giustificato dal fatto che viene dato soltanto agli istituti di istruzioni accreditati. Questo costo ovviamente dà la possibilità agli insegnanti poi di entrare a parte della community, che è questa qui, di insegnanti. E quindi, per esempio, trovare le lezioni, no, credo di averlo già aperte qua, delle lezioni completamente gratuite, modificabili. Quindi per chi non ha, diciamo, idea su come iniziare ad utilizzare Minecraft nella propria classe, può sicuramente scaricare delle lezioni già pronte, fatte da altri insegnanti ed utilizzate nelle classi di questi insegnanti. Quindi, guardate per esempio questi mondi, questo della geometria è quello che ho creato io, c'è un mondo relativo alla storia delle frazioni, quindi magari ci sono degli esercizi di matematica e calcolo di frazioni, un mondo dedicato al concetto di empatia, un mondo legato al concetto di deforestazione, un altro legato alla logica booleana, imparare concetti di economia, poi un urban planning project, e chi più ne ha, più ne metta. Ce ne sono tantissimi di questi mondi che aspettano soltanto di essere utilizzati nelle vostre classi. Adesso, torniamo alla guida, dimostrare che deve essere un istituto di istituzione accreditato. Questa è la parte un po' più rognosa, perché dovete aggiungere un vostro dominio. Allora, io clicco qui, admin, ok, facciamolo insieme. Mi si è aperta questa pagina, e devo andare sotto installazione, domini. Io questa parte qui dovrei averla già fatta, ovviamente. Domain. Ok, io, il mio dominio è già stato autorizzato e accreditato. Questo passaggio qui è un po' lungo e noioso da fare da parte della scuola, perché dovete aprire una sorta di ticket, di richiesta, verso il vostro fornitore di servizi internet, dove è registrato il vostro dominio, e inserire un cosiddetto record txt. Non vi sto adesso ad annoiare che cosa è un record txt e come dovete farlo. Lo trovate in questa guida. Fondamentalmente, questa interfaccia di Office 365 vi dà delle istruzioni che dovete semplicemente rigirare al vostro provider del servizio di hosting scolastico. Una volta fatta questo inserimento, questo record txt, il dominio verrà verificato e quindi Microsoft saprà che voi siete un ente accreditato. Da quel momento in poi avrete la possibilità di creare i vostri utenti e fare degli acquisti. Facciamo un'altra cosa, prima aggiungiamo un utente. Allora io metto, invece che Marco, metto Andrea Vigelini. Andrea Vigelini, Andrea Vigelini ha preso ok. La password la autogeneriamo. Non ci interessa, abbiamo creato un nuovo utente. Ho creato un nuovo utente perché tutti gli altri utenti che ho hanno già assegnato una licenza Minecraft Education Edition. A questo punto, nello store Microsoft per l'Education, trovate diverse soluzioni, l'Arduino IDE per esempio. Io clicco su Minecraft Education Edition. Vi faccio vedere innanzitutto questa cosa. Io ho zero licenze disponibili e assegnabili ai miei 28 utenti. Compro quindi altre 20 utenze. Questi sono i costi e semplicemente basta modificare questo valore e cliccare Next. Sto provvedendo ad acquistare altre 20 licenze Minecraft Education Edition. Mi viene chiesta la possibilità di pagare con carta di credito. A questo punto la maggior parte degli istituti scolastici si fermano. Perché o si cambia la tipologia di pagamento oppure, ed è la cosa che vi consiglio, rivolgetevi al vostro partner Microsoft di fiducia. Che vi provvederà ad attivare gratuitamente Office 365 for Education. E acquisterà per voi le licenze allo stesso costo che è previsto in questa schermata. Acquisto a questo punto le 20 licenze. Sperando che la mia carta di credito sia ancora quella corretta, mi sembra di sì. Abbiamo aggiunto le licenze Minecraft Education Edition al tuo inventario. Mi è arrivato l'SMS di pagamento. Mi avete fatto acquistare 20 altre licenze. Ne ho in questo punto aggiornate, ne ho 20 assegnabili. Aggiungiamone una e io inserisco per esempio Andrea. Sta facendo una ricerca. Andrea Vigelini, assegno. Adesso l'utente Andrea Vigelini avrà la possibilità di utilizzare Minecraft Education Edition. Sono 19 adesso le licenze che posso assegnare. Vado qui per esempio e faccio Edit a User. Cerco Andrea, Andrea e Reset Password. Mi faccio autogenerare la password. La password è questa qui, Zuzu. Che ovviamente nel momento in cui vedrete questo video sarà cambiata. Ok, adesso vediamo se andrea.vigelini.atpsmakercamp.onmicrosoft.com la password. Vediamo se me l'ha preso. Ok, Andrea Vigelini. Vediamo se in effetti adesso Andrea è dotato di una valida licenza Minecraft Education Edition. Perché legare Minecraft Education Edition ad Office 365? Per circoscrivere il raggio di azione dei ragazzi. Altrimenti andrebbero a casa e avrebbero Minecraft Education Edition che è una versione Minecraft che gli permetterebbe di uscire ed accedere a server che sono al di fuori del perimetro scolastico. E questo no, va bene. Quindi una volta che la scuola si dota di Minecraft Education Edition, le interazioni che possono avvenire tra i ragazzi rimangono solo all'interno dell'istituto scolastico stesso, all'interno di quel dominio. Ecco perché c'è l'esigenza da parte delle scuole di utilizzare Office 365 per, diciamo, circoscrivere il raggio di azione dei ragazzi quando tornano a casa, che possono continuare ad utilizzare Minecraft Education Edition riservato e concesso dalla scuola, ma sempre interagendo tra i propri compagni di classe. Questo per salvaguardare la sicurezza dei ragazzi stessi. Io penso di aver concluso nel raccontarvi come si installa Office 365, riporterò questo link nel video e ho finito. Ciao a tutti. Ciao a tutti.